Il servizio multietnico dell'ASA di Frosinone traccia il bilancio di questi primi sei mesi del 2022. Un lavoro incessante ed un impegno moltiplicato per far fronte all'emergenza ucraina che ha portato sul territorio quasi 600 profughi di guerra da assistere e sostenere. Sono state 952, dal 1 gennaio al 30 giugno, le tessere sanitarie STP straniero temporaneamente presente rilasciate. Di loro circa il 60%, 573 persone, ha riguardato profughi ucraini, mentre il restante 40%, 379, richiedenti asilo di altre nazionalità, in prevalenza subsahariani, egiziani e bengalesi. L'unità operativa semplice e dipartimentale dell'ASL Frosinate ha preso in carico prevalentemente giovani donne con figli, psicologicamente devastate e fuggite da una guerra, lasciando i loro compagni a combattere. Questi profughi sono stati accolti, visitati e sottoposti a tampone. Meno del 2% è risultato positivo al Covid e prontamente curato e isolato. È stato offerto loro lo screening per patologie e malattie infettive e in collaborazione con i centri vaccinali sono state praticate vaccinazioni per la prevenzione individuale e collettiva. I profughi ucraini stanno godendo dello status di protezione internazionale, hanno effettuato la scelta dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.